Musica 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 La scuola era zero. Aveva un collegamento molto per invitarlo alla cena e hanno fatto il giusto, il vino. La scuola era zero. 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 Grazie a tutti. 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 Comunque questa è l'unica chiesa assieme a San Luigi del Francese Amor E' la nostra voce, quella vita chiede all'amore, non è povera voce Facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di voce Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome e ha risopravignato il nome Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pievi, nei cieli, sulla terra e sotto terra E ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore a gloria di Dio Padre, parola di Dio Sia sempre benedetto il nome del Signore Sia sempre benedetto il nome del Signore Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme Si trovò incinta per opera dello Spirito Santo Ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse Quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù Egli infatti salverà il suo popolo dai tuoi peccati Ecco, la Vergine concepirà e parforirà un figlio che sarà chiamato Emanuele Che significa Dio per noi Il Signore sia con voi E vi benedica, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amma, la messa è finita, andate in casa. Andiamo, grazie a Dio. Ave Maria splendore del mattino, puro il tuo sguardo e l'umile il tuo cuore, protegga il nostro popolo in cammino, la tenerezza del tuo vero amore. La maggioranza delle vittime sono politici, quindi gente che non ha commesso nessun crimine, che disintivano dalla ideologia dominante. In Gulag era un medico primario dell'ospedale, però poi l'hanno fucilato, perché era un vescovo. E ha lasciato scritto nel testamento questa frase, dice, ciò per cui vale la pena di vivere, vale anche la pena di morire. A volte noi ci chiediamo, ma perché siamo al mondo? Quanta gente ne è, ma perché siamo al mondo? E io mi dico, se, soltanto se dà un senso alla vita, un giorno darà un senso alla mia morte. Lei ha fatto 40 anni di confidio in Casacchista, e veniva tutti i giorni fino a Pasqua di questo, perché l'ha disposto con il suo bastoncino qui, e è stato continuato per il nostro figlio, dove raccontano in Casacchista anche che le donne alla domenica, non essendoci i sacerdoti, portavano il proprio compagno che avevano, aperto con questo semplice pensiero che nel mondo, nel giorno, domenica, senza altro un sacerdote, abbia decilibrato la presidia, e sicuramente... 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 Scegliamo il posto, il ristorante è prima altista, è anche a 10 la festa, vi va bene? Lo so, lo so che cos'è, io le darei un cioccolatino, apri, 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 al suo porcelino, ma ditelo, ditelo, cos'è? La nostra guida, signori ora entriamo nel paviglione del caucaso, a sinistra della caucasica, a destra donna caucasica, donna molto particolare, donna caucasica, molto bello sullo suo bambino Suo padre la scoprì, sua padre la scoprì, che fai oh Caterina? Pirurin, 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 zonzu, in quella posa lì, in quella posa lì Io prego il mio mio pace, pirurin, 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 zonzu, che non conosci tu Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Che un po' luna. Che un po' luna, che un po' luna. No, 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 no. Appaluigi, appaluigi, quentinui marina. Grazie a tutti. 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 Watch... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I... 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 I...